Powell ha parlato un po' come Draghi qualche anno fa ha detto più o meno le stesse cose il mio mestiere è prendere decisioni impopolari e impoverire tutti quanti andiamo a cercare di capire che cosa vuol dire questa cosa qua che cosa farà la Fed nei prossimi mesi con sti cavolo di tassi di interesse in più oggi parliamo di un sacco di altre cose super croccanti questa volta è diverso Elon Musk che annulla l'accordo su Twitter parole sagge di Charlie Munger la Meme Stockman è qui per restare giovani, 41 consigli rapidi per la salute eccetera eccetera un sacco di robe super croccanti benvenuti a tutti i signori in questo nuovo video io sono Francesco Buzzi insegno come guadagnare su mercati senza diventerne schiavi e questo è il Balsi Editoriale l'appuntamento settimanale in cui cerchiamo di prendere tutta la mole incredibile le informazioni che ci arriva ogni settimana tramite articoli, opinioni, analisi, news, approfondimenti e cerchiamo di separare il segnale dal rumore cioè le informazioni effettivamente utili che ci danno effettivamente un apporto misurabile cioè ci fanno guadagnare più soldi dal rumore che sono il 95% delle notizie di cui non abbiamo minimamente bisogno detto questo iniziamo subito puoi trovare ovviamente l'articolo in descrizione con tutti i link mi raccomando approfondisci non ti fermare mai alla mia opinione al mio punto di vista devi metterci mano devi approfondire mi raccomando è molto importante trovi tutto in descrizione compreso anche il link a Beck Tecnica il corso, il nuovo corso per testare i tuoi setup e migliorarli grazie all'ottimizzazione detto questo passiamo al punto numero 1 cioè al discorso di Jerome Powell di venerdì l'altro in cui dice sostanzialmente è un articolo collegato a questo qua di Bloomberg in cui dice sostanzialmente non ci si ferma il ruolo della Fed in questo ultimo periodo quantomeno è stato abbattere l'inflazione a causa di tutta la spesa pubblica a causa di vari elementi nell'epoca del covid i prezzi sono aumentati così è l'inflazione è l'aumento generalizzato dei prezzi bene io ho 100 e oggi ho 100 dollari oggi posso comprare 100 arance e domani ne posso comprare solo 98 nonostante io abbia ancora 100 dollari bene un euro ad arancia sono arance d'oro comunque ci siamo capiti e come fanno ad abbattere le inflazioni quelle della Fed un po' lo sappiamo cioè hanno due strumenti soprattutto che utilizzano l'utilizzo dei tassi di interesse e l'acquisto di titoli statali hanno fermato il secondo già a marzo di quest'anno con profondo anticipo rispetto ai piani originali quindi hanno smesso di comprare titoli pubblici sostanzialmente e hanno aumentato i tassi di interesse i tassi di interesse che sono stati bassi per parecchio periodo si abbassano i tassi di interesse per aumentare la capacità di credito si alzano i tassi di interesse in particolar modo adesso per abbattere per combattere l'inflazione qual è il problema è che l'aumento di tassi di interesse ha conseguenze devastanti per molti settori per molte persone per molte aziende per molti investitori in ultima istanza gli investitori ma non ci interessa gli investitori sto scherzando perché diminuisce la capacità di credito si è uno stritolamento dell'economia ok è quello che dice Powell è io devo continuare a stritolarla questa economia devo continuare a rendere il credito meno facile più costoso perché quello che ci importa e che dobbiamo assolutamente andare a correggere è questo tasso di inflazione che è intorno all'8% siamo aderato negli Stati Uniti mi sono anche perso sui vari aggiornamenti per forza quindi ci saranno la crescita sarà più più lenta peggioreranno le condizioni lavorative peggioreranno le condizioni dell'impresa eccetera eccetera però io non posso fare altrimenti ecco l'inflazione adesso è all'8,5% non è che non c'è mai stata un'inflazione tale ovviamente in passato soprattutto anni 70-80 e come si fa? si fa aumentando i tassi di interesse ora perché le persone pensavano che sarebbe potuta cambiare la strategia di Powell? perché effettivamente l'inflazione sembra piegare un po' la testa questo è il grafico di Bloomberg che mostra la proiezione io delle proiezioni come si suol dire mi igienizzo non so che giro di parole per dire cosa me ne penso delle previsioni le previsioni nei sistemi complessi sono assolutamente impossibili però possiamo dai dati vedere che effettivamente l'inflazione quantomeno non ha il tasso di crescita che aveva da inizio del 2022 fino a metà del 2022 questo è andato di fatto quindi gli analisti hanno detto ok forse è il caso che iniziamo a considerare l'inflazione come impossibile discesa possibile e quindi qualcuno ha detto vabbè ma se l'inflazione scenderà magari Powell non segue più quello che aveva detto cioè che avrebbe aumentato il tasso di interesse per tutto il 2022 e per tutto il 2023 magari molla un po' il colpo e stritola meno l'economia non è così Powell ha voluto mettere le cose bene in chiaro ha detto no ragazzi è proprio detto così io ragazzi cioè non ve lo aspettate neanche così ha detto proprio ero ero presente quindi ha detto assolutamente così vanno dritti quelli lì della Fed vanno dritti previsioni non previsioni vogliono il tasso di inflazione la media sia per la banca centrale europea sia per la Fed per l'inflazione dovrebbe essere il 2 non credo aspettino che l'inflazione effettivamente arrivi al 2 però siamo a 8 siamo a 8 e mezzo sia per l'Italia che per gli Stati Uniti e quindi dicono che continueranno questo cosa vuol dire impatterà ovviamente ancora un po' sui mercati si pensa è uscito per puro caso il bitcoin non ne parliamo perché non voglio girare il dito nella piaga dai poverini i bitcoiners con questo crollo nel 2022 di cui abbiamo assistito insomma a cui abbiamo assistito e questo ultimo recente alito di debolezza che ha toccato addirittura almeno 10% adesso sta abbastanza lateralizzando ma insomma i mercati sono deboli sono deboli perché è tipico che nel momento in cui alzi i tassi di interesse lato investimenti è meno conveniente investire in azioni proprio per quel discorso lì ok quindi Paolo ha detto ragazzi anche se dovessimo stritolare ancora di più l'economia dei cittadini anche se il mercato dovesse continuare a scendere non possiamo fermarci quello che fa Ben Carson però è chiedersi però ci sono tante cose che attualmente stanno andando bene c'è un sacco di posizioni aperte lavorative il tasso di disoccupazione è uno dei più bassi di sempre è uno dei più bassi di sempre e tipicamente una recessione è sempre stata accompagnata da un tasso di disoccupazione in aumento ma adesso è in diminuzione addirittura quindi alcuni fattori economici in realtà sono positivi e quindi dice Ben Carson e ci credo che tu Powell dici continuiamo non me ne frega niente perché alcune cose funzionano oggettivamente hanno soldi hanno risparmi l'economia statunitense sta viaggiando relativamente bene non è in recessione e se tutto dovesse cambiare cioè Ben Carson si dice ok ma se effettivamente i mercati al posto di fare un timido 20% in 6 mesi dovessero effettivamente affossarsi fare un meno 40% e la disoccupazione dovrebbe dovesse aumentare e i posti di lavoro dovessero diminuire non avessi la stessa opinione quanto potresti andare avanti in questa azione così netta drastica bella domanda fatemi sapere voi cosa ne pensate riuscirà a tenere a bada l'inflazione l'inflazione aumenterà o diminuirà e cosa faranno i mercati saliranno scenderanno commenta immediatamente subito adesso qui sotto passiamo agli articoli successivi è diverso questa volta è un articolo che in realtà non mi piace non mi interessa è un articolo banale ma mi piace il titolo perché mi permette di fare un accenno appunto velocissimo a un discorso che tantissimi trader fanno tutti i trader ne stavo discutendo ieri con il team tutti i trader fanno una serie di errori all'inizio quando vogliono iniziare magari per mancata competenza magari per aspettative sbagliate voi sapete che il quinto pilastro del trading profittevole sostanzialmente richiede una corretta aspettativa ciò che contraddistingue qualsiasi trader è la convinzione di poter essere diverso è la convinzione di poter fare diversamente è la condizione di poter dire ok ma se il 90% dei trader su base annua è perdente per me non sarà così ora è evidente che se sei un trader scocchierello per te sarà così perché è un metodo che funziona ma di base è assolutamente condivisa questa cosa cioè pensare che no ma tu sei speciale no farei sempre una serie di errori che accomuna tutti quanti di gestione del rischio di gestione delle aspettative di scelte e è il tuo destino cioè non esci per forza tutti l'hanno sempre fatto è per questo che promuovo promulgo e condivido il mio metodo perché così diminuisce il tempo di azione diminuisce il numero di errori che puoi fare perché ti dico io quello che ho fatto e quindi ti dico gli strumenti per non farlo ma il per me questa volta è diverso o è diverso in generale è assolutamente comune cenno cenno a Elon Musk se non leggete Matt Levine ma fateci un salto veramente divertente Musk cancella l'accordo di Twitter mi interessa relativamente poco ne abbiamo già parlato tanto volevo solo fare un accenno sul non facciamo come i pecoroni i pecoroni per i pecoroni il mondo è bianco e nero ok quindi Musk è o un genio o un troffatore quindi io quando dico che Musk dovrebbe essere indagato per varie manipolazioni del mercato soprattutto nell'utilizzo di Twitter le persone dicono però Musk però ha fatto anche cose buone quella roba lì ma io non ho detto che Musk è per forza bianco o nero non è quella roba lì Musk è un cacchio di genio ma ci rendiamo conto che è partito da zero a fare una casa automobilistica punto lasciamo stare che era anche elettrica punto una casa automobilistica da zero è un genio ma deve essere indagato per manipolazioni di mercati questo è assolutamente secondo me netta come cosa perché dico questo cosa c'entra con il trading c'entra con l'informazione c'entra con questo basso editoriale ti arriveranno tantissime notizie tu sentirai tantissime cose ma queste cose ogni tanto saranno vere ogni tanto saranno false ogni tanto ti serviranno ogni tanto no ogni tanto dovrai decriptarle decodificarle ed è un lavoro che devi fare tu non dare la colpa agli altri l'informazione esiste tu hai la responsabilità di prendere l'informazione che importa a te che ha effetto su di te che ti farà fare più soldi poi è un discorso interessante questo di Nuggets of Investing Wisdom sulla natura intrinsecamente a breve termine degli investimenti noi ne abbiamo già parlato un sacco di volte avete presente Katie Wood Katie Wood o Woods Wood è la proprietaria e gestora gestisce gestora e gestisce il fondo Archinvest l'ETFRT Archinvest e ha fatto un sacco di soldi nel 2020 con ottime performance e un sacco di persone hanno iniziato a investire nel suo fondo fantastico perfetto magnifico e quasi automaticamente quasi come se fosse una coincidenza il fondo ha iniziato a perdere soldi perché? perché le masse si comportano così perché esistono le bolle perché i mercati funzionano così? perché l'articolo dice noi siamo sempre intenzionati diretti nel cercare di pagare meno tranne che in finanza dove se sentiamo una cosa GameStop che sale Bitcoin che sale Archinvest che sale noi vogliamo comprarla quindi è un prezzo più alto del normale per poi essere fregarci automaticamente perché Bitcoin non me lo voglio ricordare ma quello che avrebbe combattuto l'inflazione e le mani forti è a 20.000 ed è debole come ecco come mai prima d'ora ok perché noi funzioniamo così vogliamo far parte di quelli che prendono l'occasione della vita di quelli che ne approfittano non vogliono rimanere fuori non vogliono sentirsi dire eh ma come? ma non hai investito anche tu in questa cosa che mi ha fatto fare l'X% ma non lo sapevi? ma come? ma te l'ho detto ama di qua ama di là e quindi noi tendiamo a voler investire nelle cose che sentiamo vi racconto spesso di mio cognato quel cretino che ha investito in GameStop proprio nel picco perché ne aveva sentito parlare ma ci sarà un motivo se tu non trader non hai mai sentito parlare di una roba e a un certo punto vuoi investire in quella roba lì e perdi soldi ma ci sarà una correlazione il mercato dell'investimento in generale delle bolle finanziarie in generale è fatto così così come con i nostri comportamenti come al solito dico che è importantissimo per fare soldi e evitare di perderli e capire come funzioniamo noi molto interessante l'articolo che vi consiglio allora 4-5 articoli molto veloci in realtà questo è un articolo interessantissimo che non c'entra niente non c'entra niente lui parla di investimenti ma non c'entra con quello che in realtà facciamo sostanzialmente dice che per una serie di concatenate di azioni involontarie non manipolate non comandate non esatto espresse pianificate da qualcuno le persone che appunto per puro culo crescono nei primi mesi dell'anno in qualche modo sono avvantaggiate dalle persone rispetto alle persone che nascono nei mesi finali dell'anno per tutta una serie di cose la scuola si è sempre un pochino avanti eccetera eccetera questo è come un effetto valanga che alla fine ti premia in termini di stipendio in termini di soddisfazione di personale in termini di felicità eccetera eccetera ed è fantastico è un articolo incredibile che mi ha aperto parecchio gli occhi punto stop Meme Stock mania e qui per restare assolutamente sì ci si chiedeva dopo appunto quella mania ridicola tra i criptocosi che comprano Luna o che comprano GameStop o che comprano AMC o che comprano di qua e di là se poi si sarebbe tutto regolamentato e si sarebbe tornati diciamo alle condizioni iniziali no non ci sono le condizioni iniziali ragazzi dire che chi ha investito nelle aziende per sentito dire con Robinhood nel 2020 è un idiota e sparirà dal mercato non vuol dire niente perché la stessa identica cosa è successa anche nel 2000 con strumenti diversi ma è la stessa identica cosa anche nel 2000 investivano in patatelesse.com solo perché c'era il .com e si parlava della bolla delle .com assolutamente normale quindi sempre ci sarà questo trasporto delle masse della ricerca del nuovo strumento finanziario della nuova occasione che mi farà battere il mercato mi farà diventare ricco assolutamente normale 41 consigli rapidi per salute felicità ricchezza questi sono articoli che non sopporto proprio è una cosa che non sopporto però ve li sottopongo e vorrei dei commenti da parte vostra sono consigli ridicoli tipo no multitasking concentrati o mangia più verdure sì va bene ma cioè non è che devo sentire te Tony isola per farmi dire queste cose e non che siano inutili non sempre alcune volte sì perché alcune volte sono ridicoli però tipo questo è interessante politici sportivi le celebrità non se ne fregano niente di te fai sì che neanche tu te ne freghi di loro è sicuramente utile cioè assolutamente va bene ma queste liste sono un po' un po' così non mi fanno un piacere perché non investire in Cina perché gli Stati Uniti funzionano meglio dell'Italia in termini di mercati finanziari perché vi dico di non investire nei mercati emergenti voi investite nei mercati emergenti poi fate meno soldi dite ah però il nuovo ordine mondiale perché i dati dicono questo dal punto di vista di economia funziona così questo è un blog molto interessante evidenceinvestor.com che prende uno studio del 2019 che dice ma la democrazia fa sì che i mercati finanziari funzionino meglio la risposta è sì però è anche un po' ma va è abbastanza normale la democrazia automaticamente promuove la libera concorrenza un mercato più efficiente un mercato che investe di più un mercato più ottimista più la ricerca del credito che prevederà qualche fallimento ma da un punto di vista di evoluzione sarà un mercato più efficiente e più profittevole punto cioè è così che funziona scordatevi che la Cina per com'è adesso possa raggiungere gli Stati Uniti non funziona così ricordiamoci che la Cina fa il lockdown zero covid senza alcun senso solo perché ha deciso Xi Jinping che non può cambiare idee essendo equiparato a Dio cioè a Mao Zedong in Cina assolutamente è così ragazzi parliamoci chiaro perché non investi nel mercato finanziario che ne so della fammi capire di Cuba eh perché c'è l'embargo ma perché è una dittatura ragazzi cioè non funziona l'economia non funziona così l'economia non è una scienza dura per carità però è una scienza sociale in qualche modo e gli studi sono stati fatti bene o male quindi cerchiamo di investire nei nostri portafogli in modo efficiente senza farci prendere in giro senza farci dire dare i dagli no investi in Cina poi investiamo in Cina poi lui ritira i soldi e tu sei fregato cioè lo dice è giusto non dici un rispetto per i dagli ma poi devi decidere tu cosa fare dei tuoi soldi ok no investi investi in in Brasile a me sembra che vent'anni fa quando doveva essere l'alba del mercato finanziario brasiliano e ci fossero dei presupposti per pensare che sarebbe andato diversamente fa schifo ok quindi mi raccomando leggete questo articolo che è molto interessante e leggete anche questo articolo che è molto interessante da parte di Charlie Munger che ha una caterva di difetti grandi come una casa ad esempio investire in Alibaba quando tutti tutto ciò che ha detto nella sua vita è di non investire in un'azienda come Alibaba ma investe in Alibaba e sta prendendo un sacco di legnate e va bene così ci mancherebbe ma ha un enorme pregio uno è miliardario due è intelligente come uno e tre ha un focus tremendo sull'economia comportamentale quindi mi ci vede assolutamente a fine è uno dei miei mentori da questo punto di vista no? cioè lui dice ciò che farai i soldi che farai dipendono dalle tue azioni quindi se non capisci del perché tu investi di qua al posto che di là non capisci niente quindi è sicuramente interessante leggetelo perché è super 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 croccante ora link di back tecnica per imparare a programmare i tuoi le tue strategie e a renderle migliori in descrizione oppure 800 475 300 ci vediamo domenica con il bus devo sempre pensarci perché non mi ricordo mai con il bus monitor commenta condividi il video metti mi piace iscriviti al canale e credo aver detto tutto incredibile ciao buon weekend end